Allora siamo qui a Rimini e io sto facendo un video di un abitante locale che sta provando per la prima volta fare rowerblading a Rimini. Forse sarebbe un po' difficile per lui la prima volta però io penso che con un po' di pratica lui riuscirà. Allora questa è un'intervista per la televisione americana, allora che cosa tu ce l'hai da dire al tuo pubblico in America? Questa è la mia idea, vorrei fare una serie di programmi televisivi dal titolo How to complicate your life every day in a simple way. Ok però allora tu non sei quel ragazzo di ieri che io ho parlato con lui vicino al ponte di Tiberio? dalla festa perché tu hai un certo rassomiglianza a lui. Io penso che veramente tu sei lo stesso abitante di San Giuliano Borgo. E allora sei tu? No comment! No comment! E allora come ti chiami? Ok vabbè e allora cosa farai oggi per fare al pubblico americano e io penso che gli italiani sono i più bravi del mondo. Ecco una signora che mi aiuterà. E io sto facendo un video di lui per al lativo americano. E io sto facendo un video di lui per al lativo americano. No io avrei bisogno di una sigaretta perché non riesco a fare solo una cosa alla volta. Ok però provo tu Amalia. Ah che bravo! Ah! Tu fai molto bene! Ah lui sta girando. Penso che adesso sta girando. Però non si sa... Oh! Le scalini! Allora... Attento a la scalini! Ah che bella cosa! Veramente per la sua prima volta rowerblading American style. Posizione per migliore! Quattro ha Fenso! Ado! Uno, due, tre, quattro, yeah!